ragazzi buongiorno vi ricordo per chi volesse sostenere il canale che può farlo gratis facendo un click iscrivendosi al canale ed attivando la campanellina in questo canale live video sono accessibili a tutti non c'è nulla a pagamento ringrazio sempre per questo bellissimo regalo ragazzi Giuseppe Morigno Giuseppe Morigno esonerato il tecnico di Morigno a livello tattico io l'ho sempre detto è rimasto un po' a dieci anni fa è comunque è rimasto un grande comunicatore però questo non gli è bastato per rimanere alla Roma dove secondo me la Roma non lo manda via perché lui ha uno status molto alto no come allenatore e soprattutto Morigno ha sempre messo delle clausole di rescissione anticipata molto alte in caso di esonero vedremo quanto sborza la Roma però secondo me Giuseppe ormai il tuo meglio l'hai dato hai comunque segnato anche un po' il calcio mondiale no per i più modi di fare per la tipologia di lavoro per come hai gestito mentalmente anche la stampa ma c'è sempre un inizio e una fine quindi ciao Giuseppe quest'estate avevi detto non so se rimango alla Roma secondo me ti hai rimesso sul mercato non ti ha voluto nessuna grande squadra tranne in Arabia Saudita e sei rimasto lì magari ti rivedremo in Arabia Saudita ma in Arabia Saudita stanno scappando molti calciatori perché hanno problemi a portare via i soldi dall'Arabia Saudita perché e per quello riguarda i diritti eh i soldi dei diritti di immagini e li possano portare via i soldi che guadagnano lì per loro per i calciatori stanno giocando in Arabia Saudita è difficile portarli via motivo per cui molti eh vogliono tra virgolette scappare da quel calcio vedremo se la sistemeranno questa cosa ora in Supercoppa la Supercoppa ragazzi la Supercoppa è diventato un mini torneino parliamoci chiaro di cosa stai ragionando non lo so dove i cinesi capito la Supercoppa è diventato un mini torneino quindi si fa turn nove si mette quello si mette quell'altro cioè l'Inter ragazzi più di tanto turnover purtroppo eh cioè l'abbiamo visto non se lo può permettere cioè devi fare devi fare un turnover stude studiato cioè non è che puoi stravolgere più di tanto gli undici titolari poi a confronto ci sono due squadre l'Inter e la Lazio che sulla carta ovviamente siamo molto più forti noi soprattutto negli undici titolari di là c'è Sarri che comunque è è un buon allenatore abbastanza bravo a livello tattico non è un top non è un allenatore top ed offre un calcio bello eh Maurizio Sarri spesso quando si trova davanti squadre che lo fanno giocare capito e che non marcano bene i giocatori cardini ha perso molte individualità tipo Milinkovic Savic ma il modulo il modulo diciamo di Sarri secondo me ha depotenziato tanti giocatori ovvero sia Luis Alberto Lazzari e lo stesso Immobile con i zaghi facevano le buche in terra quindi capito una squadra un po' strana la Lazio non è vero non prendono tanti gol hanno una difesa abbastanza accorta pur non avendo dei fenomeni dietro eh però ecco diciamo che in queste partite qui devi sempre stare sul pezzo nessuna partita eh è facile perché poi alla fine questa supercoppa la vogliamo vincere tutti oltre per il prestigio ma anche per i soldi perché se non sbaglio sono circa otto milioni niente deve fare tu nove l'ho detto prima calma io l'unica cosa e farei magari farei giocare Bissec perché ripeto quando un giocatore giovane ti offre prestazioni buone quando un giocatore giovane sulla resta dell'onda è in fiducia il pubblico lo applaude devi continuare a farlo giocare gli devi far continuare la crescita perché poi un ragazzo giovane prima o dopo qualche errore lo fa ma quel momento lì lascialo andare quando è in scia positiva in scia di sorpasso lascialo giocare i zaghi Bissec lo dovevi far giocare secondo me con il Verona non con il Genova lo so chi ha giocato sbagliai l'altra volta con il Verona lo avrei fatto giocare quindi io l'unica cosa che farei in supercoppa che farei giocare Bissec ma sempre con Darmianne ricordate sempre con Darmianne che gli copre le spalle a livello difensivo e a centrocampo ragazzi io in supercoppa farei riposare un po' barellino e metterei Frattesi che a me ditemi tutto quello che vi pare ma per me Frattesi lo dico da quando ero al Sassuolo l'anno scorso per me Frattesi è un grandissimo giocatore è un grandissimo giocatore Frattesi per quello riguarda i zaghi poi da un punto di vista modulistico seguimi bene stai calmo da un punto di vista modulistico parte sempre con i tre cinque due siamo tutti d'accordi d'accordo te l'ho sempre detto per come vedo il calcio io un allenatore che allena l'inter dovrebbe avere più idee tattiche però pur non essendo il mio allenatore preferito in zaghi ma riconoscendogli comunque di aver fatto un ottimo lavoro e lo sto ribadendo da inizio stagione cioè questo modulo che alla fine no con base di partenza tre cinque due ha dei movimenti senza palla perché a me piacciono tantissimo i movimenti senza palla di questa squadra eh te l'ho già detto anche la settimana scorsa te l'ho detto ieri e te lo ridico oggi se te non guardi solo la palla che la entra in rete e tu e tu ti metti a guardare un attimino i movimenti senza palla che fa questa squadra soprattutto quando è in condizione fisica cioè ti portano in alcune fasi della partita i movimenti senza palla di tutti i giocatori cioè a riempire sempre gli spazi ecco perché io parlo di tre cinque due riempimento spazi perché quando te riesci a riempire tutti gli spazi con giocatori diversi alla fine è un tre cinque due ma non lo è capito che ti voglio dire perché gli spazi sono sempre coperti poi alla fine da giocatori diversi e questo cosa dà questo dà molta imprevedibilità cioè l'inter è imprevedibile spesso capito da molta imprevedibilità ecco perché davanti per il gioco di zaghi servirebbe un nove pum 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 ma ce l'abbiamo ce l'abbiamo lautare gioco imprevedibile killer davanti e questo è quello che serve per il gioco di zaghi poi è normale con questa tipologia di gioco propositivo devi avere sempre giocatori al massimo della forma fisicamente e mentalmente ecco perché quando noi siamo in forma siamo una schiaccia sassi perché sei imprevedibile ti muovi bene senza palla io vedo giocatori che quando hanno la palla l'ho visto anche l'ho rivisto nell'ultima partita dopo un po' di tempo quando te vedi dei giocatori senza palla che hanno due o tre opzioni per scaricarla cosa vuol dire vuol dire che i movimenti sono stati fatti bene quindi bisogna dire anche questo la supercoppa non va snobbata importante però eh ci deve essere per come la vedo io sempre capito ci deve essere sempre una precedenza per il campionato perché è importante ragazzi vincere il campionato quest'anno sarebbe fondamentale perché poi dopo alla fine cioè avere la seconda stella anche a livello di prestigio sarebbe tantissima roba io non vedo l'ora di comprarmi la magliettina alla seconda stella come tanto di come tanti di voi quindi ragazzi iscriviamoci al canale attiviamo la campanellina e nel video mattutino detto tutto domani sarò fuori per lavoro in trasferta magari farò un video dalla macchina mi fermo in piazzola e facciamo due ghiacchiere e sotto tempo ne faccio uno più tardi ciao inter è ciao